Chi vince il Mondiale spero il Messico, ha delle qualità per arrivare in finale, ha un buon attacco, speriamo. Il Mondiale lo vincerà l'Argentina, credo. Dopo la partita di ieri credo che saranno sufficientemente motivati per vincere, arrivare fino alla fine. Secondo me faranno una grande partita con la Francia e poi andranno fino alla fine. Poi non so se lo vinceranno, però saranno sicuramente in finale, secondo me. L'Argentina, perché il Messico e la guerra. Il Portogallo, credo. È una delle squadre più forti. Poi c'è la Croazia che è fortissima anche. Non saprei proprio. Io spero, a me piace moltissimo la Croazia, spero la Croazia. È un bel gioco, si vede che è una buona squadra. Momentaneamente è quello che ha dimostrato di più di essere in grado di vincere il Mondiale, poi vedremo. Sono tanti che possono vincere, dalla Germania, alla Francia, al Brasile, sono le squadre forti, diciamo, come sempre. Secondo me poi Francia e Argentina bisogna vedere come va, però diciamo i nomi sono quelli, o Francia o Germania. La Croazia è forte, vince Germania. Ma Spagna può essere una buona squadra. La Croazia forse, ma perché sono bravi, sono forti, non hanno aspettative, non hanno comunque la pressione che hanno di altri, quindi probabilmente ce la fanno stavolta. O anche il Belgio, li vedo abbastanza bene. Comunque è una squadra che non ha mai vinto prima, secondo me. Brasile, spero. Chi vince il Mondiale?